La delegazione pentassellata della Regione Molise punta l'attenzione sul comitato consultivo sugli appalti pubblici che a detta De Grillini sarebbe l'ennesimo mostro politico che rischia di creare potenziali e pericolose ingerenze in un settore estremamente delicato. Da quella politica dovrebbe tenersi ben lontana per evitare preferenze oppure, nella maggior parte dei casi, mazzette, limitarsi quindi solo alla programmazione. È stato proprio durante l'ultima finanziaria che con i soli voti contrari del Movimento 5 Stelle la maggioranza targata a frattura ha approvato la nascita di questo organismo che dovrà svolgere attività di consulenza sugli appalti pubblici con specifiche funzioni che, come già evidenziato precedentemente dal Movimento 5 Stelle, di competenza già dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. I consigliari di minoranza puntano poi l'attenzione sulla legge prevista dallo stesso comitato in cui si legge che tale organo sarà composto dal Presidente della Giunta regionale, dall'assessore delegato e dal Presidente delle commissioni regionali permanenti e competenti per materia. Un comitato che dovrebbe essere tecnico non è altro che l'ennesimo organismo politico, rincarano la dose di 5 Stelle, che in stato di allerta e di estrema preoccupazione hanno deciso di procedere per porre rimedio a questa situazione mediante una segnalazione all'ANAC stessa.